Eccoci qua di nuovo con il Vangelo di Luca, dopo l'introduzione adesso guardiamo al libro di Luca, il Vangelo di Luca in sé. Prima di iniziare lo studio però nei dettagli vorrei ricordare alcuni passi che sono necessari se vogliamo ricevere veramente il più possibile dallo studio della parola, proprio perché la parola abbia un effetto sulla nostra vita. Sono quattro punti estremamente importanti anche se molto semplici. Il primo è, primo passo assolutamente necessario e importante, pregare. Prima di iniziare il nostro tempo di studio, di meditazione, fermiamoci un momento e chiediamo a Dio di aiutarci, chiediamo veramente allo Spirito Santo di guidarci, di insegnarci, abituiamoci a sviluppare una dipendenza dallo Spirito Santo. Il secondo passo è leggere la scrittura. È importante leggere la scrittura ed è altrettanto importante imparare a farlo in modo corretto, ignorando le interruzioni dei capitoli, dei versetti e titoletti che spesso sono scritti nella nostra Bibbia. Perché questo? Perché tutte queste cose sono state aggiunte dall'uomo e a volte possono anche ostacolare la lettura corretta dalla scrittura. Ad esempio i capitoli sono stati aggiunti nel 1228 da Stephen Lenton e i versetti nel 1551. Quindi tante volte possono distrarci, sono solo una comodità per trovare in fretta magari riferimenti quando non ne abbiamo bisogno. Ma non sono nulla di più. Il terzo passo è osservare attentamente quello che il testo dice. È importante imparare a leggere ogni brano nel suo contesto, nel suo contesto, ma anche nel suo contesto originale, lasciando da parte tutto il nostro bagaglio culturale, denominazionale e teologico e tenendo conto di quello che era l'ambiente sociale, la cultura, la storia di quel tempo. Perché è estremamente diversa da quella nostra di oggi, specialmente la cultura, l'ambiente sociale, erano estremamente diversi e questo è qualcosa di cui noi dobbiamo tenere conto. Dobbiamo comprendere inoltre prima di tutto quello che l'autore, cioè lo Spirito Santo, voleva dire ai lettori originali. E quando noi sappiamo quello che l'autore voleva dire ai lettori di allora, allora e solo allora possiamo prenderlo e farlo nostro per la nostra cultura e il nostro tempo. La quarta cosa è ricordarsi che la fine dello studio biblico non è quella di aumentare la nostra conoscenza intellettuale, ma è quello di conoscere i principi contenuti nella scrittura per applicarli poi nella nostra vita. Dobbiamo permettere alla parola di Dio di essere quella spada a doppio taglio che penetra nel nostro intimo e ci porta a cambiare i nostri atteggiamenti, i nostri modi di pensare e quindi le nostre azioni. Come l'Apostolo Paolo diceva, siate rinnovati nello spirito della vostra mente. E come possiamo rinnovare la nostra mente? Solo conoscendo e riempiendo la nostra mente della parola di Dio. Quindi il fine ultimo dello studio biblico è l'applicazione alla nostra vita. Ma ora guardiamo al Vangelo di Luca. Come ho detto in precedenza, il Vangelo di Luca può essere suddiviso in tre parti principali. Una parte di un'introduzione, il ministero di Gesù e poi gli ultimi giorni, la morte e la risurrezione di Gesù. In questa lezione guarderemo nei dettagli la prima parte, cioè l'introduzione. Questa prima parte può essere a sua volta suddivisa in tre sezioni. Nel capitolo 1 dal versetto 1 al 4 la prefazione o prologo, poi dal versetto 5 del capitolo 1 fino al versetto 52 del capitolo 2 l'annuncio, la nascita e la fanciullezza di Giovanni Battista e di Gesù e poi dal versetto 1 del capitolo 3 fino al versetto 13 del capitolo 4 la preparazione di Gesù al ministero pubblico. Facciamo prima di tutto un breve riassunto di questa prima sezione. Luca inizia il suo Vangelo rivolgendosi all'eccellentissimo o all'illustre Teofilo, a cui dice di aver fatto delle ricerche accurate e di aver scritto un resoconto dettagliato delle cose che i testimoni oculari avevano tramandato, avevano raccontato. Durante il tempo in cui Erode è re della Giudea, un angelo appare a un sacerdote di nome Zaccaria nel tempio e gli annuncia che Dio ha ascoltato le preghiere sue e di sua moglie e che avranno un figlio, che dovranno chiamare questo figlio Giovanni. Questo figlio volgerà il cuore di molti israeliti verso Dio. A causa della sua incredulità, come segno che queste parole erano da parte di Dio, Zaccaria resta muto fino all'adempimento delle parole dette dall'angelo Gabriene. Alla fine del suo turno Zaccaria torna a casa e sua moglie Elisabetta resta incinta. Sei mesi dopo l'angelo Gabriele appare ad una vergine di nome Maria, che era fidanzata a un uomo di nome Giuseppe e le annuncia che avrà un figlio e che sarà chiamato, questo figlio sarà chiamato figlio dall'Altissimo. Il nome di questo figlio deve essere Gesù, che vuol dire il Salvatore, colui che salva. Maria accetta la volontà di Dio senza riserve. Poi va ad Elisabetta e ringrazia Dio per quello che gli ha fatto. Quando giunge il tempo per Elisabetta di partorire, dà alla luce suo figlio e lo chiama Giovanni. A causa del censimento Giuseppe e Maria vanno a Betlemme e mentre sono lì Maria dà la luce Gesù. Gli angeli annunciano la sua nascita ai pastori che sono fuori nei campi. Poi, trascorso il tempo necessario, Gesù viene portato al Tempio per edempiere ai requisiti della legge. E lì, Simeone e Anna profetizzano riguardo a lui. Dopodiché Giuseppe e Maria tornano a Nazareth. Quando Gesù ha dodici anni, i suoi genitori lo trovano nel Tempio mentre parla con i maestri. Gesù li segue e resta loro sottomesso. Il quindicesimo anno del regno di Tiberio Cesare, nel tempo in cui Anna e Caiafa sono suomi sacerdoti, Giovanni, mosso da Dio, inizia a predicare, chiamando il popolo al pentimento in vista della venuta del Messia. Molti rispondono alla sua chiamata e vanno da lui a farsi battezzare. Anche Gesù va da Giovanni e si fa battezzare. Lo Spirito Santo scende su di lui e Dio Padre dichiara che Gesù è il suo amato figlio. Poi, guidato dallo Spirito, Gesù va nel deserto per 40 giorni dove viene tentato da Satana. Questo è il riassunto di questa prima parte. Andiamo ora a guardare meglio i dettagli. Abbiamo detto che, scusate, i versetti dall'1 al 4 sono una prefazione, un prologo, un'introduzione. Luca, infatti, inizia il suo Vangelo in modo diverso dagli altri, con una breve prefazione scritta in eccellente greco, simile a quella che si poteva trovare nelle opere degli storici o di scrittori letterati del suo tempo. Il suo scopo è quello di dare un resoconto storico che mostrasse che il cristianesimo aveva basi attendibili e solide. Possiamo imparare diverse cose dal prologo di Luca. Prima di tutto, che c'erano in circolazione diverse narrazioni sulla vita di Cristo al tempo in cui Luca scrisse questo Vangelo, per cui non è stato lui il primo a cercare di mettere per iscritto la storia di Gesù. Questo lo vediamo nel versetto 1. Poi vediamo che Luca ha ricevuto le sue informazioni da coloro che erano stati presenti sin dall'inizio ed erano testimoni oculari e ministri della parola, compresi quindi gli apostoli. I resoconti dei testimoni oculari mostrano che la fede cristiana è radicata nella realtà storica. Il terzo punto che possiamo imparare è che Luca è stato particolarmente attento nella selezione delle fonti del suo materiale. Ha fatto una ricerca accurata di tutte le tradizioni che gli sono pervenute. Quarto, Luca non include se stesso tra i testimoni oculari dalla vita di Gesù. Quinto, Luca ha condotto uno studio attento, preciso e accurato durante un periodo di tempo e ha redatto un resoconto ordinato e sistematico, però non necessariamente cronologico. Sesto, Teofilo ha già udito il Vangelo, ma l'autore, cioè Luca, lo mette per iscritto in modo che Teofilo possa esaminare personalmente ogni cosa nei dettagli ed avere la certezza di quello che gli è stato insegnato. Sette, vediamo che il Vangelo appunto è dedicato all'eccellentissimo, o illustre, secondo delle versioni della Bibbia, Teofilo. Nel libro di Atti, Luca si rivolge a lui scrivendo semplicemente O Teofilo. Teofilo era un nome greco e significava amico di Dio. Il titolo, eccellentissimo, illustre, veniva usato per rivolgersi ai procuratori o ai governatori provinciali, come ad esempio Felice, che troviamo in Atti al capitolo 23 e 24, e Festo, che troviamo in Atti nel capitolo 26, al versetto 5. Forse, quindi, Teofilo ricopriva una posizione di governo. Non si conosce nulla comunque di lui. Potrebbe essere stato anche un ufficiale romano. Era comunque pratica comune dedicare un libro a qualche persona importante che avrebbe magari anche a sue spese provveduto alla copiatura e poi alla diffusione del manoscritto. Il Vangelo, comunque, non è stato scritto solo per Teofilo, ma per i gentili convertiti in generale. Alcuni sostengono che Teofilo è solo un termine generale riferito a tutti i cristiani, visto che Teofilo vuol dire appunto amico di Dio, e che questa è una dedica generale, come ad esempio, caro lettore cristiano. Ma l'epiteto eccellentissimo, illustre, implica che Luca si stava riferendo ad una persona specifica, probabilmente appunto un ufficiale romano. Guardiamo ora alla parte che va dal versetto 5 del capitolo 1 al versetto 52 del capitolo 2. Abbiamo prima l'annuncio della nascita di Giovanni Battista, poi l'annuncio della nascita di Gesù, poi la descrizione della nascita di Giovanni Battista, e poi della nascita e fanciullezza di Gesù. Questi avvenimenti sono intrecciati l'uno con l'altro, e mostrano come Giovanni era veramente legato alla venuta di Gesù, alla venuta del Messia. Il versetto 5 inizia con Al tempo di Erode, re della Giudea, c'era un sacerdote di nome Zaccaria. Luca mostra la sua qualità di storico proprio con questo suo precisare il tempo in cui l'annuncio della nascita di Zaccaria è avvenuto, perché gli storici erano soliti introdurre una narrativa indicando i nomi dei re o dei governatori di quel tempo, in modo da dare la possibilità di stabilire approssimativamente il tempo in cui gli eventi si erano svolti. Erode il Grande è stato ufficialmente re della Giudea dal 37 al 4 avanti Cristo. Più avanti Luca dice che nel versetto 7 sia Zaccaria che sua moglie Elisabetta erano in età avanzata e questo ci suggerisce che probabilmente entrambe avevano più di 60 anni. Nel versetto 8 vediamo che Zaccaria stava esercitando il sacerdozio davanti a Dio nell'ordine del suo turno secondo la consuetudine del sacerdozio. C'erano 24 ordini o divisioni che facevano a turno il servizio del Tempio due settimane all'anno ma due settimane non consecutive. E a Zaccaria toccò in sorte di entrare nel Tempio del Signore per offrirvi il profumo e tutta la moltitudine del popolo stava fuori in preghiera nell'ora del profumo. Il sacerdote entrava da solo e faceva l'offerta mentre il popolo spettava fuori in un atteggiamento di preghiera fino a quando il sacerdote riappariva e le licenziava con una benedizione. Ed è successo proprio mentre Zaccaria stava offrendo il profumo che gli è apparso l'angelo un angelo del Signore. E questo angelo dice a Zaccaria la tua preghiera è stata esaudita tua moglie Elisabetta avrà un figlio. Come abbiamo visto erano già tutti e due in età avanzata quindi certamente Zaccaria e sua moglie avevano per anni pregato Dio che desse loro un figlio ma non era successo nulla e quindi avevano abbandonato ogni speranza. Ma al tempo stabilito da Dio la risposta è arrivata. Ricordiamoci che per Dio non è mai troppo tardi e non dobbiamo mai perdere le speranze. I tempi di Dio sono sempre, spesso, diversi dai nostri tempi però sono sempre giusti sempre precisi. L'angelo dice a Zaccaria che dovrà chiamare il bambino Giovanni Giovanni vuol dire la misericordia o la grazia di Dio quindi un nome veramente appropriato per lui. e l'angelo dice anche quale sarà il destino di questo bambino qual è lo scopo di Dio per la vita di questo bambino. Dice che andrà davanti a lui cioè al Signore con lo spirito e la potenza di Elia per volgere i cuori dei padri e i figli per preparare al Signore un popolo ben disposto. In questo Luca cita Malachia 4 versetti dal 5 al 6 e Isaia capitolo 40 versetto 3 mostra così che la nascita di Giovanni è l'adempimento di profezie del Vecchio Testamento e afferma subito dall'inizio quale sarà la potenza e il tipo del suo ministero chiamare il popolo alla riconciliazione e al pentimento in modo da preparare la via la strada al Messia. La risposta di Zaccaria è da che cosa conoscerò questo? Perché io sono vecchio e mia moglie è in età avanzata. Zaccaria non ci crede guarda se stesso dice ma io sono vecchio mia moglie pure com'è che può succedere una cosa simile? E l'angelo gli dice guarda siccome tu non hai creduto tu sarai muto e non potrai parlare fino al giorno che queste cose avverranno. Non dobbiamo mai guardare a noi stessi e alle nostre limitazioni alle nostre impossibilità ma dobbiamo guardare a Dio e considerare la sua illimitata grandezza e la sua illimitata potenza e che Dio è colui che dà la vita che Dio è la fonte della vita e teniamo anche presente che l'incredulità può avere conseguenze anche negative. sappiamo appunto che come abbiamo detto Zaccaria poi è andato a casa finito il suo turno e che sua moglie rimane incinta. Poi dal versetto 26 al 56 abbiamo l'annuncio della nascita di Gesù sempre l'angelo Gabriele questa volta va da una vergine fidanzata ad un uomo di nome Giuseppe e il nome di questa vergine è Maria nella cultura giudaica il termine vergine era riferito a giovani ragazze nubili che avevano solitamente attorno ai 14 anni o meno quindi possiamo facilmente immaginare Maria a 14 anni o meno che riceve la visita dell'angelo Gabriele e le dice salve o grandemente favorita il Signore è con te tu sei benedetta tra le donne che meraviglia di saluto che riceve questa giovane questa giovane ragazza e l'angelo Gabriele le dice appunto che avrebbe concepito nel grembo e avrebbe partorito un figlio a cui avrebbe posto il nome Gesù che vuol dire appunto salvatore egli sarà grande e sarà chiamato figlio dell'altissimo e il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno e suo regno non avrà mai fine e Maria disse all'angelo come avverrà questo poiché io non conosco un uomo anche lei fa una domanda all'angelo ma la sua domanda viene da un atteggiamento completamente diverso da quello di Zaccaria Maria voleva semplicemente sapere come sarebbe successo visto che lei appunto non non aveva nessuna relazione e non aveva avuto nessuna relazione con un uomo e l'angelo in risposta le spiega come quello sarebbe successo però vediamo proprio come Maria ha un atteggiamento completamente diverso da quello di Zaccaria mentre Zaccaria aveva guardato alla sua condizione alle sue limitazioni alla sua impossibilità Maria guarda a Dio guarda a Dio e pensa alla grandezza di Dio perché lei riconosce che Dio colui che è il creatore di tutte le cose può fare quello che lui dice che farà l'angelo più avanti nel versetto 17 infatti le dice poiché nulla è impossibile con Dio Dio è colui che ha creato l'universo e lo mantiene in perfetto equilibrio è colui che dà la vita nulla per lui è impossibile troppo spesso noi limitiamo Dio perché non consideriamo chi lui è non lo consideriamo veramente ma lo consideriamo in base a quelli che sono i nostri standard umani limitati la risposta di Maria alla spiegazione dell'angelo è ecco la serva del Signore mi sia fatto secondo la tua parola Maria era completamente sottomessa a Dio e non è stata influenzata dalla sua condizione e nemmeno dalle conseguenze che lei avrebbe dovuto affrontare perché essendo incinta fuori dal matrimonio Maria poteva essere considerata una donna adultera e poteva essere lapidata per cui non aveva davanti delle prospettive facili ma lei si è semplicemente completamente arresa alla volontà di Dio affidandosi a Lui per ogni cosa cosa possiamo imparare da questo atteggiamento che focalizzarsi sulla grandezza di Dio anziché sulle limitazioni umane e sul suo carattere fidandoci di Lui e affidandoci completamente a Lui come ha fatto Maria ci permette di sottometterci a Dio senza riserve e di vedere manifestati la sua illimitata potenza e il suo illimitato amore Maria poi va a trovare Elisabetta ripiena dello spirito santo esclama a gran voce dicendo tu sei benedetta fra le donne benedetto è frutto del tuo grembo e poi dice al versetto 45 ora beata ecco lei che ha creduto avendo creduto a Dio Maria aveva ricevuto una ricompensa che altrimenti non avrebbe potuto avere perché Maria aveva ricevuto la benedizione di diventare parte del piano eterno di salvezza di Dio Maria quindi inizia il suo ringraziamento al Signore che ci ricorda il ringraziamento di Anna quando è rimasta incinta di di Samuele in risposta alla sua preghiera e ci ricorda quello di altri nel Vecchio Testamento e vediamo come Luca adatta veramente il suo linguaggio alla cultura in cui si svolge quello che lui sta raccontando al versetto 51 Maria dice egli ha operato potentemente con il suo braccio ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore ha rovesciato i potenti dai loro troni e ha innalzato gli umili e qui vediamo il cuore di di Luca per i poveri per i deboli e come Luca vuole sottolineare che quelli che sono in una posizione di potere non devono essere orgogliosi ed esaltare se stessi perché sono gli umili che verranno esaltati da Dio non i potenti interessante questo particolare visto che Luca ha indirizzato il suo Vangelo il suo scritto appunto a Teofilo all'illustre eccellentissimo Teofilo abbiamo poi la nascita di Giovanni Battista perché è arrivato il tempo Elisabetta partorisce Zaccaria ritrova la parola ed è scritto che fu ripieno di spirito santo e profetizzò dicendo benedetto sia il Signore Dio di Israele perché ha visitato e compiuto la redenzione del suo popolo e ci ha suscitato una potente salvezza nella casa di Davide suo servo come egli aveva dichiarato per bocca dei suoi santi profeti parla poi al versetto 73 del giuramento fatto da Abramo nostro padre Gesù cioè scusate Zaccaria nella sua profezia non inizia parlando di Giovanni suo figlio ma inizia parlando di Gesù 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 è colui che ha la precedenza su ogni cosa quindi le prime parole che Zaccaria ripieno di spirito santo pronuncia sono di lode a Dio e fanno riferimento a Gesù il Messia Zaccaria guarda alle profezie del vecchio testamento e alle promesse di Dio ad Abramo Dio ha redento il suo popolo ha suscitato una potente salvezza nella casa di Davide e poi Zaccaria profetizza riguardo invece a suo figlio e tu o piccolo bambino sarai chiamato profeta dell'altissimo perché tu andrai davanti alla faccia del Signore a preparare le sue vie per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza del perdono dei loro peccati grazie alle viscere di misericordia del nostro Dio Zaccaria profetizza riguardo al figlio e a quello che sarebbe stato il suo compito preparare la via del Signore attraverso di lui Dio rivela attraverso di lui Zaccaria Dio rivela qual è la vera natura del Messia e della sua salvezza cioè il perdono dei loro peccati al versetto 80 vediamo che scritto intanto si riferisce appunto a Giovanni il bambino cresceva e si fortificava nello spirito e rimase nei deserti fino al giorno che egli doveva manifestarsi a Israele e con questo Luca punta a paragonare Giovanni con i profeti di un tempo conferma quindi che Giovanni è un profeta di Dio un profeta che Dio aveva appartato e chiamato come suo profeta capitolo 2 inizia invece con il racconto di Giuseppe e di Maria che devono recarsi a Betlemme perché c'era un censimento e quindi essendo della casa di Davide Giuseppe doveva recarsi in Giudea nella città di Betlemme per farsi registrare con Maria sua moglie Dio usa tutte le circostanze per adempiere alla sua volontà perché Betlemme era stato indicato dal profeta Michea nel capitolo 5 versetto 2 come luogo di nascita del Messia per cui Dio ha mosso le circostanze in modo che la sua parola venisse adempiuta leggiamo che mentre quando erano a Betlemme Maria giunse per lei il tempo del parto che fasciò e pose il figlio a giacere in una mangiatoia perché non c'era posto per loro nell'albergo subito prima ancora che nascesse per Gesù il salvatore del mondo non c'era posto non c'era posto per lui nell'albergo e poi vediamo l'annuncio degli angeli ai pastori è scritto versetto 8 del capitolo 2 ora in quella stessa regione c'erano dei pastori che dimoravano all'aperto nei campi e di notte facevano la guardia al loro grege gli angeli annunciano la nascita di Cristo ai pastori che erano tra i più poveri del popolo ma c'è anche un particolare interessante legato a questo perché Gesù nel Vangelo di Giovanni dice io sono il buon pastore che si preoccupa delle sue pecore così come i pastori facevano la guardia ai loro greggi al loro greggio di notte quindi un altro riferimento sempre a Gesù poi vediamo nei versetti dal 13 al 14 che ad un tratto si unì all'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lo dava a Dio dicendo gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra agli uomini su cui posa il suo favore Dio non si limita a dare l'annuncio della nascita di Cristo il salvatore ma elimina ogni dubbio che i pastori possono avere mostrando in modo chiaro sia quello che che quello che è avvenuto è stato opera sua sia la portata di questo evento l'esercito del cielo fa festa e dà gloria a Dio ai pastori non resta altro da fare che prendere atto di quello che hanno visto e sentito e andare a Betlemme e dopo aver visto con i loro occhi dare a loro volta lode e gloria a Dio versetto 21 vediamo che una volta che sono trascorsi gli otto giorni dopo i quali Gesù doveva essere circonciso gli fu posto il nome Gesù versetto 22 quando poi furono compiuti i giorni della purificazione di lei secondo la legge di Mosè portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore versetto 23 come è scritto nella legge del Signore ogni maschio primogenito sarà chiamato santo al Signore versetto 24 e per offrire in sacrificio come è detto nella legge del Signore un paio di tortore o due giovani colombi in questi tre versetti quattro volte Luca ripete lo stesso concetto Gesù viene circonciso ogni cosa viene fatta secondo la legge come è scritto nella legge come è detto nella legge del Signore Luca sottolinea che per quanto riguarda Gesù ogni cosa è sempre stata fatta secondo la legge sin dalla sua nascita quindi in adempimento della legge non in contrasto Gesù ha detto io non sono venuto per abolire la legge ma per completarla per adempierla vediamo che il sacrificio offerto da Maria è quello di un paio di tortore o due giovani colombi questo mostra ancora una volta che Gesù era nato nelle condizioni più umili perché questo era il sacrificio previsto proprio per i poveri mentre sono nel tempio vediamo che un uomo chiamato Simeone che era giusto e pio e aspettava la consolazione di Israele arriva è scritto che lo Spirito Santo era su di lui e che egli mosso dallo Spirito era andato nel tempio ancora una volta Luca mostra quanto lo Spirito Santo sia attivo in tutto quello che sta accadendo lo Spirito Santo era stato su Zaccaria lo Spirito Santo era venuto su Maria affinché Gesù fosse concepito lo Spirito Santo aveva riempito la bocca di Maria nel suo cantico di ringraziamento lo Spirito Santo era stato sin dall'inizio attivissimo al versetto 30 anzi cominciamo a leggere dal versetto 29 che dice ora Signore lascia che il tuo servo muoia in pace secondo la tua parola perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza che tu hai preparato davanti a tutti i popoli luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele da questi versetti vediamo che prima di tutto la salvezza viene da Dio infatti Simeone dice la tua salvezza che tu hai preparato davanti a tutti i popoli Dio non l'ha fatto in segreto ma davanti a tutti i popoli inoltre dice luce per illuminare le genti la sua salvezza non è solo per Israele il suo popolo eletto perché il cuore di Dio è per tutti gli uomini è per l'umanità intera Dio desidera che tutti gli uomini siano salvati e la sua salvezza è per tutti anche per il peggiore dei peccatori se si pente questo non dimentichiamolo e poi Simeone continua al versetto 34 e dice ecco costui è posto per la caduta e per l'innalzamento di molti in Israele e per essere un segno di contraddizione chiaramente Gesù non sarebbe stato accettato da tutti ma avrebbe causato reazioni contrastanti la reazione delle persone a Cristo avrebbe portato al loro innalzamento o alla loro caduta e poi continua e a te stessa una spada trafiggerà l'anima affinché siano svelati i pensieri di molti cuori questo ci insegna che nulla può restare nascosto davanti a Dio ma ogni cosa è destinata ad essere esposta anche i pensieri più intimi del cuore anche quelli segreti che non vengono detti e rivelati a nessuno dal versetto 36 al 28 troviamo Anna la profetessa che è scritto che serviva Dio notte e giorno con digiuni e preghiere e non si allontanava mai dal tempio Anna è l'esempio di una vita dedicata a servire Dio attraverso l'intercessione dal 39 al 40 leggiamo che quando ebbero compiuto tutto quello che riguardava l'osservanza della legge del Signore quindi ancora una volta Luca sottolinea l'ubbidienza alla legge ritornarono in Galilea nella loro città di Nazareth intanto il bambino cresceva e si fortificava nello spirito essendo ripieno di sapienza e la grazia di Dio era su di lui poi vediamo che Gesù a 12 anni è seduto in versetti da 41 a 51 è seduto in mezzo ai dottori intento ad ascoltarli e a far loro domande e tutti quelli che lo udivano stupivano della sua intelligenza e delle sue risposte e poi al versetto 49 Gesù dice perché mi cercavate non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio da questi versetti vediamo proprio come Gesù si fortificava nello spirito che la grazia di Dio era su di lui e aveva quindi sapienza e intelligenza più di tutti gli altri qual era il suo segreto sin da bambino Gesù era focalizzato su Dio e sugli scopi di Dio sin da allora lui sapeva che Dio era il suo vero padre e non si lasciava distrarre da nient'altro però è scritto anche nei versetti 50 e 51 ma essi non compresero le parole che aveva detto loro ed egli scese con loro tornò a Nazare e stava loro sottomesso nonostante Gesù sapesse chi lui era lui è sempre rimasto sottomesso ai suoi genitori ha sempre avuto un atteggiamento di di sottomissione di obbedienza di umiltà per questo Gesù è scritto che cresceva in sapienza in statura e in grazia davanti a Dio e agli uomini passiamo ora alla parte versetti u dall'uno da versetto 1 del capitolo 3 versetto 13 del capitolo 4 che riguardano la preparazione di Gesù al ministero pubblico troviamo la predicazione di Giovanni Battista il battesimo di Gesù la sua genealogia e la sua tentazione riassumendo brevemente questa sezione vediamo che Giovanni mandato da Dio inizia a predicare chiamando appunto il popolo al ravvedimento Gesù va da Giovanni per essere battezzato e quando lui esce dall'acqua lo spirito santo scende su di lui e Dio dichiara che quello è suo amato figlio lo spirito conduce poi Gesù nel deserto per 40 giorni al termine dei quali verrà tentato appunto da Satana e termina con la nota che Giovanni verrà arrestato e imprigionato da Erode guardiamo ora nei dettagli Luca ci dà un'indicazione abbastanza precisa del tempo in cui è accaduto quello che lui sta riportando per ribadire ancora una volta il fondamento storico di quello che è successo infatti dice or nell'anno quindicesimo del regno di Tiberio Cesare mentre Ponzo Pilato era governatore della Giudea Erode Tetrarca della Galilea sul fratello Filippo Tetrarco dell'Iturea e della regione della Trafonitide Elisania Elisania Tetrarca Elisania Tetrarca dell'Abilene e poi precisa sotto i sommi sacerdoti Anna e Kayaf Anna sommo sacerdote è stato sommo sacerdote dal 6 al 15 dopo Cristo e fu deposto dai Romani ma i Giudei continuavano a riconoscere la sua autorità anche sotto il anche quando suo genero Kayaf era sommo sacerdote ed è scritto che in questo tempo la parola di Dio fu indirizzata a Giovanni quindi Luca vuole sottolineare che Giovanni non è andato d'iniziativa sua ma è stato mandato da Dio Giovanni è scritto che percorse tutta la regione nei dintorni del Giordano predicando un battesimo di ravvedimento per il perdono dei peccati come sta scritto nel libro del profeta Isaia che dice ecco la voce di uno che grida nel deserto preparate la via del Signore raddrizzati i suoi sentieri ogni valle sia colpata ogni monte e colle sia abbassati i luoghi tortuosi siano raddrizzati e le vie scabrose appianate e ogni carne vedrà la salvezza di Dio il profeta Isaia lui cita appunto il profeta Isaia dal capitolo 40 i versetti dal 3 al 5 e qui abbiamo proprio l'immagine degli araldi che a quei tempi andavano davanti al re per dire al popolo di preparare la strada per il suo arrivo perché dovevano preparare la strada perché le strade non erano belle asfaltate come oggi ma erano piene di sassi erano anche piene di rifiuti per cui gli araldi andavano davanti al re dicendo al popolo preparate la strada perché sta arrivando il re e il popolo doveva ripulire le strade di tutti i rifiuti di tutti i sassi rimuovere quello che rendeva le strade difficili e scomode da percorrere allo stesso modo fa Giovanni che va davanti al re dei re per invitare il popolo a fare la stessa cosa con la propria vita perché il re dei re il messia stava arrivando e infatti dice preparate la via del signore come si prepara la via del signore con il ravvedimento per il perdono dei peccati infatti Giovanni predicava un battesimo di ravvedimento per il perdono dei peccati e poi il versetto 6 dice e ogni carne vedrà la salvezza di Dio nel versetto 5 del capitolo 40 Isaia dice che la salvezza di Dio è per ogni essere umano non sarà limitata ad un angolo della terra ma tutti la vedranno ancora una volta Luca vuole sottolineare che la salvezza non era solo per Israele ma anche per tutti i gentili versetto 8 dice fate dunque frutti degni del ravvedimento e non cominciate a dire dentro di voi noi abbiamo Abramo per padre versetto 9 egli è già la scure è posta alla radice degli alberi ogni albero quindi che non produce frutto buono sarà tagliato e gettato nel fuoco Giovanni dà un avvertimento a quelli che lo ascoltano non serve a nulla essere battezzati se non c'è la volontà sincera di abbandonare il peccato espressa attraverso le proprie azioni e i giudei non potevano pensare di essere discendenti di Abramo e non potevano pensare che essendo discendenti di Abramo sarebbero stati automaticamente salvati dal giudizio di Dio questo vale anche per noi oggi non serve a nulla essere battezzati anche per noi se non c'è una volontà sincera di abbandonare il peccato che c'è nella nostra vita una volontà espressa attraverso le nostre azioni Dio guarda all'atteggiamento del nostro cuore non guarda all'apparenza quello che richiede è un cuore sinceramente pentito e obbedienza lui guarda alle persone individualmente ed ognuno è responsabile per la propria vita versetto 15 al 18 Giovanni Luca scusate dice che il popolo era in attesa e tutti si chiedevano in qualora se Giovanni fosse lui Cristo Giovanni risponde dicendo io vi battezzo con acqua ma viene colui che è più forte di me al quale io non sono neppure degno di sciogliere il legaccio dei sandali egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e con il fuoco così egli evangelizzava il popolo esortandolo in molti altri modi c'era aspettativa nel popolo per la venuta del Messia e il messaggio di Giovanni aveva aumentato ancora di più questa aspettativa e la risposta di Giovanni alle loro aspettative è non c'è non c'è assolutamente alcuna alcun paragone tra me e il Messia così come non c'è paragone tra il mio battesimo e il suo il mio battesimo è con acqua ma il suo battesimo sarà con lo Spirito Santo e con il fuoco io sono qui solo per fare da cartello indicatore verso di lui cosa possiamo imparare da questo che dobbiamo ricordarci sempre che noi siamo solo dei cartelli indicatori e che il nostro compito è di indirizzare gli altri a Cristo perché in Cristo c'è la salvezza e non dobbiamo mai indirizzare gli occhi delle persone su noi stessi c'è poi Luca parla poi del battesimo di Gesù lui non dice molto del battesimo di Gesù perché vuole mettere in evidenza solo tre cose primo che Gesù stava pregando quando il cielo si aprì secondo che lo Spirito Santo è sceso su di lui per equipaggiarlo per quello che gli stava davanti terzo che Dio dichiara chi Gesù è veramente e la sua approvazione infatti in questi due brevi versetti leggiamo ora come tutto il popolo era battezzato anche Gesù fu battezzato e mentre stava pregando il cielo si aprì e lo Spirito Santo scese sopra di lui in forma corporea come di colomba e dal cielo venne una voce che diceva tu sei mio amato figlio in te mi sono compiaciuto quindi dice veramente poco poi cosa strana invece di parlare di continuare con Gesù in questo punto Luca inserisce la genealogia di Gesù e dice Gesù aveva circa 30 anni e lo si credeva figlio di Giuseppe figlio di Eli eccetera eccetera terminando al versetto 38 figlio di Enos figlio di Seth figlio di Adamo di Dio con questa genealogia Luca mostra che Gesù non solo è legalmente discendente da Davide e quindi ha diritto legale ad essere il re del popolo di Israele ma che Gesù abbraccia tutta la razza umana quindi è venuto per la salvezza di tutti gli uomini non solo per il popolo di Israele questo concetto Luca lo ripete diverse diverse volte nel suo Vangelo versetto 1 del capitolo 4 fino al 13 abbiamo la descrizione della tentazione di Gesù Luca scrive ora Gesù ripieno di spirito santo ritornò dal Giordano e fu condotto dallo spirito nel deserto e per 40 giorni fu tentato dal diavolo Gesù il figlio di Dio non ha agito di sua propria iniziativa ma sin dall'inizio ha seguito la guida dallo spirito santo Satana stesso ha tentato Gesù Satana sapeva chi Gesù era veramente e lo vediamo anche più avanti perché ogni volta che Dio ogni volta che Gesù incontra uno spirito immondo uno spirito un demone questi lo riconoscono immediatamente vediamo che trascorsi 40 giorni in cui Gesù non mangiò nulla egli ebbe fame e a quel punto il diavolo Satana arriva e gli dice se tu sei figlio di Dio dia questa pietra che diventi pane ma Gesù gli rispose dicendo sta scritto l'uomo non vivrà soltanto di pane ma di ogni parola di Dio Satana suggerisce a Gesù di fare un miracolo e di mostrare attraverso questo miracolo chi lui è e di usare questo miracolo perché lui ha un bisogno ha un bisogno fisico ha fame ma Gesù che cosa risponde lui risponde con Deuteronomio 8 3 e dice l'uomo non vive di solo pane ma di ogni parola che viene da Dio Gesù mette la priorità sull'ubbidienza a Dio rispetto alla soddisfazione anche dei nostri bisogni fisici legittimi ubbidire a Dio è più importante nella seconda tentazione il diavolo gli disse lo porta su un alto monte gli mostra tutti i regni della terra e gli disse io ti darò tutto il potere di questi regni e la loro gloria perché essa mi è stata data nelle mani e io la do a chi voglio se dunque tutti i prostri mi adori sarà tutta tua ma Gesù rispondendogli disse vattene via da me Satana sta scritto adori Signore Dio tuo e servi lui solo Satana offre a Gesù una scorciatoia per evitare la croce basta che Gesù lo adori e avrà il dominio sul mondo avrà la gloria ma Gesù risponde con Deuteronomio 6.13 sapete quante volte che noi siamo tentati di prendere dalle scorciatoie per raggiungere una certa posizione o ricevere riconoscimento dagli uomini a volte Dio ci mostra quello che è la sua chiamata sulla nostra vita e noi a volte siamo presi dall'impazienza e cerchiamo dalle scorciatoie ma sapete non è possibile servire Dio e se stessi non ci sono scorciatoie Gesù ha detto che bisogna rinunciare se stessi prendere la propria croce e seguirlo se si vuole essere veramente suoi discepoli non ci sono scorciatoie la terza tentazione Satana lo pone sull'orlo del tempio e gli dice se tu sei figlio di Dio gettaci giù di qui perché sta scritto egli comanderà i suoi angeli attorno a te di custodirti ed essi ti sosterranno con le loro mani affinché il tuo piede non urti contro alcuna pietra Gesù rispondendo gli disse è stato detto non tentare il Signore Dio tuo e quando il diavolo abbia finito ogni tentazione si è tornata da lui fino ad un certo tempo da cosa cosa vediamo da quest'ultima tentazione Gesù rispondeva al diavolo citando la parola allora il diavolo cosa fa pensa di prendere anche lui la parola e di usarla a proprio interesse cita il Salmo 91 i versetti dall'11 al 12 ma li cita fuori contesto per usarli appunto a suo favore infatti il versetto 10 dice chiaramente che la protezione di Dio è per eventi avversi che possono capitare e non una scusa per ricercare quel tipo di pericoli Gesù risponde con Deuteronomio 6.16 che è riferito all'episodio in cui Israele tentò Dio a massa nel deserto dubitando della sua presenza in mezzo a loro cosa possiamo imparare da questa tentazione primo che il diavolo conosce la parola di Dio tante volte meglio di noi e che lui la può usare per cercare di tirare le cose dalla sua parte quindi è necessario conoscere la parola di Dio e testare quello che si riceve con la scrittura con la scrittura intera per discernere chi sta parlando o altrimenti possiamo essere ingannati secondo bisogna anche fare attenzione a non usare i passi biblici fuori dal loro contesto perché in questo caso li usiamo per i nostri interessi e la cosa non può portare frutto buono nella nostra vita non dobbiamo avere lo stesso atteggiamento di Israele che si lamenta e protesta dubitando della fedeltà di Dio e della sua presenza in mezzo a loro qual è la conclusione della tentazione di Gesù cosa possiamo imparare che Gesù è stato tentato esattamente come possiamo esserlo noi però non ha mai ceduto alla tentazione e ci ha lasciato un esempio di come sconfiggere il nemico fidandoci di Dio e obbedendo a Lui solo a Lui solo